buongiorno a tutti io sono alessandro negrini fabio pisani siamo a voci a eminaglia in piazza scala all'interno delle meravigliose gallerie d'italia l'eccellenza per noi è un punto fondamentale perché è quella sinergia che si crea tra noi i nostri piccoli produttori che portano quelle eccellenze a tavola per far emozionare per valorizzare il territorio italiano e a proposito eccellenze che dire questo luogo è unico magico essere qui in piazza della scala all'interno di gallerie d'italia in questi luoghi magnifici in un progetto straordinario fa di questo luogo un'eccellenza totale e questi spazi con il giardino di alessandro la casa di manzone tutte le gallerie d'italia i vari palazzi la progettualità l'idea che il cliente e il visitatore del museo siano la stessa cosa quindi uno può essere uno o l'altro e quindi fondersi in un'esperienza unica tra arte cucina che davvero ci riempie di orgoglio sono lorenzo pesci lo chef di voce a emennadi in piazza della scala e da settembre 2022 che porta avanti la cucina di voce ma è dal 2020 che lavora insieme a fabio pisani e alessandro negrini al nostro menù abbiamo dato il nome collezioni per quale motivo perché essendo molto vicini essendo all'interno del museo gallerie d'italia ogni galleria ha le proprie collezioni e secondo noi questo menù collezione racchiude tutta la nostra filosofia tutti i nostri piatti e tutto il nostro modo di vedere della cucina questo menù collezioni per noi rappresenta il collegamento che c'è tra arte e gastronomia il gruppo emenadia ha proprio come capo saldo l'eccellenza della materia prima l'italianità e qui con lo chef lorenzo ancora di più l'arte e la bellezza si fondono in un risultato culinario che ha sempre un po' accompagnato il brand emenadia che dici fabio ed è un'esperienza che vogliamo far vivere ai nostri clienti sulle unicità dei prodotti della ricerca e dello sviluppo che poi viene nei nostri menù e rendere esclusiva in toto l'esperienza ma anche nel luogo in cui si trova di prossimo 2